Oggi non lavoro, oggi non investo, il resto non vuole, ma ripesto di lui. Una bella sorpresa stamani per i clienti del centro commerciale di Ponteaggreve a Firenze, un mini concerto della Banda Bardot nel reparto frutta e verdura di Unicop Firenze. Una bella iniziativa che guardiamo con ottimismo, con simpatia, per questo siamo scesi qui alla Coop, siamo venuti qui alla Coop a suonare, cosa che non avremmo mai e mai preventivato in vita nostra, però è un'iniziativa intelligente, è un'iniziativa che permette di accantonare punti, di avere accesso a biglietti per mostre, teatri, concerti, ci sembra una cosa bella, ci sembra una cosa che può aiutare diversa gente a venire a luoghi in cui uno fa benzina positiva, andare a un concerto è sempre una cosa che allieta e che fa bene. Due mesi in tutti i nostri supermercati della Toscana ci saranno 60 eventi culturali, si va dalla musica come stamani, si va dal teatro, ai libri, alle mostre, ai concerti di musica classica, tutta la parte che può essere iscritta alla scimmaiuscola sarà presente in tutti i nostri supermercati. 60 eventi con 60 artisti importanti, meno importanti, locali, internazionali, e quindi un'idea per favorire la cultura, l'uso della cultura. A questo noi accompagniamo anche una grande promozione economica, con sconti sui biglietti per andare a questi concerti, a questi spettatori teatrali e anche per l'acquisto di libri.